Il Consiglio Comunale di Castellabate ha votato per il passaggio del servizio idrico integrato alla CONSAC, una notizia che già da tempo era stata contestata dalla minoranza che ora, tramite il consigliere comunale Luigi Maurano, torna a sbattere i pugni contro il provvedimento giudicato l'ennesimo colpo mortale all'economia familiare e turistica dei cittadini di Castellabate. Motivo? La società di Vallo della Lucania ha le tariffe più alte di tutto l'ambito. Per fare un semplice esempio, una famiglia di quattro persone che consuma 200 metri cubi di acqua all'anno oggi paga 60 euro, mentre dal 2019 pagherà 200 euro. In pratica un aumento di tre volte l'importo attuale e questo vale per tutti, cittadini, famiglie, attività imprenditoriali, turistiche e commerciali, perché allora si è deciso per il passaggio dall'ASIS alla CONSAC. A detta dell'amministrazione, l'ASIS non ha ritenuto conveniente prendere in carico alla gestione del servizio idrico integrato di Castellabate, in quanto gli impianti di depurazione e gli impianti idrici sono troppo fatiscenti. Pensate come stiamo messi, continua Maurano. Forse perché da otto anni non è stato fatto nessun investimento sull'impianto, forse perché si è preferito spendere risorse e accendere mutui per opere secondarie e non di investimento. La CONSAC prevede un investimento poco superiore al milione di euro per tali impianti. Niente di straordinario, insomma, se pensiamo che la casa comunale è costata all'incirca la stessa cifra. Possiamo perciò comprendere come ci fosse tutta la possibilità per il comune di Castellabate di investire sugli impianti del servizio idrico integrato ed evitare così la scelta della CONSAC. Una società peraltro famosa anche per i continui disservizi in tutti i periodi dell'anno. E' stata compresa, dice Maurano, che non esita a parlare di salasso per i cittadini. Si è discusso poi anche del polo scolastico, spiega il consigliere. Una struttura che dovrebbe nascere a Santa Maria, in una zona al momento inadeguata urbanisticamente. Basti pensare che al momento l'unica via di accesso è una strada che a stento riesce a far passare due auto contemporaneamente. Pensate che ingorgo, che disagio si verrà a creare quando tutti i genitori si recheranno nello stesso momento in quella zona. Ci sarà il blocco di Santa Maria. C'è poi da far notare come nascerà vicino al Vallone Sant'Andrea e al momento senza le necessarie predisposizioni delle vie di fuga, come ampiamente segnalato dai vigili del fuoco. Per questi motivi tale opera sembra essere decontestualizzata dal punto di vista urbanistico e socio-economico, conclude il consigliere Luigi Maurano.